Ora mi vado a fare una bella doccia. Ma ci stavo andando io! Ah no, mi dispiace, ci devo andare io. Ma io lo dico a mamma. Ma non mi interessa. Ma che stai facendo? Sto scegliendo cosa mettermi per questa sera. Perché tu non ce li hai i vestiti? I vestiti? Si dà il caso che io prendo sempre lo scarto di Jessica, dato sì che tu sei l'unica cocca della casa alla quale mamma compra vestiti nuovi, allora io ne approfitto, dato che abbiamo la stessa taglia. Mi prestarei anche tu quello che voglio? Ma certo, tesoro. Ma che stai facendo? Ho preso in prestito il tuo pantaloncino. E tanto in questo posto non ci pensare proprio. Ma io lo dico a mamma, le costruite le prendi e io non posso prenderle tue. Laura, perché non hai voluto prestare il pantaloncino a tua sorella? Ma mamma, lei mi ha chiesto questo pantaloncino qua, lo sto indossando perché me lo devo togliere per darlo a lei. Ma non è vero, non ce la vedi addosso, era nell'armadio. Certo che sei proprio bugiarda, eh? Stupita. Ehi, Robertina, facciamo una cosa. Se proprio ti piace, dopo usciamo te lo compro uguale, va bene? Ok. E tu vergognati, che sei sempre la solita. No, è troppo buono. E poi è subito. Ciao ragazzi, che fate? Parliamo di cose nostre. Eh sì, piccolina. Ah sì, posso ascoltare anch'io? Assolutamente no. Vietato ai minori di 18 anni, quindi sei pregata di uscire fuori. Dai, metterlo in un angolino buono, senza dire nulla. Chiudetto, esci immediatamente, piccola pulce. Dai, vai a giocare con le bamboline. Uffa però, cattive. Continuiamo a parlare di nostri discorsi malsani. E allora mi dicevi, è super dolore.